benvenuti su mio canale allora oggi nuovo video scusate per le unghie qui mi si è levato lo smalto dopo lo devo levare farò un video su cosa adesso vi faccio vedere su samsung s8 più sarebbe il plus e volevo fare questa unboxing con voi anche se già l'ho aperto già l'ho operato il samsung eccetera eccetera insomma il mio ragazzo mi ha fatto questo regalo mi ha fatto il cellulare nuovo quindi è il samsung galaxy s8 plus più insomma come lo vogliamo chiamare quello quello più grande insomma quello da 64 gb vuole fare questo unboxing così insieme a voi perché insieme a voi perché mi piaceva farla però non voglio critiche sotto quindi apre una piccola prentesi non voglio critiche sotto il video negativi che dice che ne so fare un unboxing per un secolo che dire eccetera eccetera cioè io non è che sono una comigliacca di blog che fanno le recensioni dei telefonini eccetera eccetera infatti la recensione del telefono non la faccio la persona insieme a voi vi dico qualche caratteristica che ovviamente leggerò nel pc perché ovviamente a memoria non lo so tutte le cose che ha e niente quindi non voglio recensioni e sì non voglio insomma come si può dire dei commenti negativi insomma ecco perché vi ripeto non sono una che sa dei telefoni eccetera eccetera tra le caratteristiche cazzi ammazzi insomma ecco quindi per favore ho voluto fare questo questo volevo fare solo questo video di un unboxing perché una cosa che mi piace veramente tanto fare infatti prima che mi arrivasse che ho aspettato una settimanella circa ho messo fatta le magnate su youtube di video per quanto riguardava le s8 plus degli unboxing e quindi mi piaceva farlo anche a me ok chiusa parentesi allora questa qui si presenta così la scatola adesso l'apriamo ecco qua allora la scatola contiene ovviamente il telefono come vedete vedete acceso perché l'ho messo solo per farvelo vedere c'è una cosa è veramente grande prova del telefono non guardiamo dopo poi allora qui il mail vedete l'ho levata come mi sa detto però faccio vedere c'è il pirulino per levare la c'è per mettere la scheda sd e la memory card su sul telefono tipo laghetto qua c'è tutti i modelli vedete c'è stata la guida di riferimento rapido warranty card samsung service sprecazioni di sicurezza samsung esclusiva e come trasferire i contenuti sono il telefono galaxy infatti questo adesso mi serve che io sono a memoria non lo so non ve so spiegare bene insomma già che per spiegarmi a me invece vuole che non mi spiego tanto beh comunque vabbè allora questo mettiamo qua poi c'è il caricabatterie insomma diciamo questo qui è velocissimo infatti vedete fast molto molto veloce infatti quella pellicola io non l'ho levata al telefono me l'ha portato roberto sabato oggi lunedì me l'ha portato sabato qui dopo per mettere il filetto di caricabatterie insomma allora questi due cosa sono questi due se ce la faccio a prenderli questi ancora non l'ho adoperati allora adesso ve lo dico praticamente questo allora questi due praticamente uno lo attaccate il telefono nuovo e l'altro questo quinto il telefono vecchio diciamo è praticamente poi trasferire i dati su quello vecchio quello nuovo tutti i dati tipo le foto le applicazioni eccetera 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 questo qui il connettore usb questo qui dopo aver cercavo usb quello del vecchio dispositivo insomma ci mettete questo praticamente dovete collegare i due dispositivi poi dovete premere l'icona smart switch che sul nuovo dispositivo quello del galaxy nuovo il telefono poi dovete selezionare i contenuti da trasferire e poi toccate l'icona in basso sullo schermo per avviare trasferimento praticamente queste cose qua insomma serve per questo poi qua dentro ci troviamo le cuffie queste qua queste sono in tessuto e queste sono della akg che dicono che costa sulle 99 100 euro queste cuffie qua insomma quindi sono contenta di avere delle ottime cuffie insomma comunque il volume l'ho sentito si sente bello alto e ok poi ci sono va bene cuffiette queste qua di ricambio e questo qui come vedete già insomma ed è già l'ho aperto tutto questo qui per il caricabatterie insomma per questo eccolo qui laghetto che infatti vedete eccolo qua che ho fatto così che stava praticamente inciso qui così insomma va bene qua stava qua insomma questo io tengo tutto qui dentro così non mi perdo niente a parte vabbè adesso qui lo levo tanto ciò carica il telefono quindi questa è l'altra richiediamo allora ho messo a posto la scatolina e questo qui è il telefono cioè è veramente veramente bello dietro e così io e dietro di ha lasciato la pellicolina tranquille queste qui non è uno spacco la pellicola vedete che c'è la pellicolina poi adesso mi devo arrivare la cover per non arriva nera semplice niente di che per proteggerlo e qui invece il mio ragazzo roberto mi ha messo la pellicola quella quella di vetro è bellissimo anche perché comunque in mano qui dicene che non ce la fa ne tanto arrivare qua sopra ma io sinceramente ce la faccio benissimo non mi ha dato tutto questo mi ha creato tutto questo problema però io ho fatto la riconoscimento con l'iride praticamente adesso ve lo accendo un attimo come sblocco vabbè ho questa foto mia vedete vedete sbloccate vedi con l'iride vedete qua sopra con l'iride diciamo l'ha sbloccato c'era proprio stupendo qui aveva già fatto mi lasciate perde io qui dopo io ci ho messo tutte applicazioni adesso che ho poi dopo questo qui vi farò un video a parte dove facerò vedere tutte le mie applicazioni che ho scaricato che avevo anche nel telefono vecchio poi vedete figo perché quando si spegne comunque rimane l'orologio fisso se ti arriva una notifica qua potete cliccare direttamente qui va per la notifica eccetera eccetera allora metto qua capo c'è a luce da fastidio ecco adesso vi dico le caratteristiche allora ovviamente è un android ha un display di 6.2 pollici e di una risoluzione da 2.960 per mille per mille 440 pixel poi al modulo lt e 4g che permette otterferimento dati una navigazione internet eccellente la fotocamera quella di dietro insomma posteriore a 12 megapixel quella in avanti mi pare se non è rotto megapixel e ragazzi ho fatto una prova faccio un video e le foto c'è sono stupende c'è fa delle foto e di video ragazzi che io mi sono impressionata è bellissimo tanto mi piace tanto tanto e poi questa fotocamera 12 megapixel dice che permette ugualmente al samsung galaxy s8 o plus di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4290 per 2800 pixel e di registrare un video in 4k alla risoluzione di 3840 per 2160 pixel lo spessore di 8.1 mm e contenuto rende questo samsung galaxy s 8 plus molto interessante poi le dimensioni 159.5 per 73.4 per 8.1 mm questo android 7.0 peso c'è 173 grammi poi 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 che vi posso dire non ha la dual sim la sim card quella nano anche il quad band processore al quad core 2.3 ghz e ve leggo così perché non so come si pronuncia più quad core 1.7 gk gk no hz scusate 64b i gpu e mali g71 mp 20 ram 4 gigabyte memoria massima 64 gigabyte ragazzi di memoria c'è io tutta l'applicazione che ho scaricato sull'altro cellulare che c'è avevo il huawei p8 lite come avete visto già scaricavo 5 6 applicazioni già metto cammette la scheda sd la micro sd insomma come si chiama la scheda sd quella espandibile no e si la micro sd e qui infatti non ce l'ho messa ancora della lascio della finché se mi di caso di si riempi questo ma per adesso non basta così le cose dopo vediamo mano a mano che farò le foto eccetera la metterò poi espandibile ovviamente come ho detto adesso la micro sd fino a 256 gigabyte risoluzione dei pixel ve l'ho detto il tipo è super amoled touchscreen capacitivo multi touch colori dice 16 milioni protezione gorilla glass 5 vabbè poi 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 cosa vi posso dire stabilizzazione c'è ottica poi c'è l'autofocus il touch focus il flash led hdr dual shot geotagging face detection smile detection fotocamera frontale ovviamente 8 megapixel poi anche dei video all'autofocus lo stabilizzatore lo slow motion video in hdr dual rack stereo sound rack foto in video eccetera poi videocamera frontale full hd da 30 fps opzioni fotocamera frontale hdr dual call il wifi bluetooth usb type o tape tip non so come si pronuncia c 3.1 nfc gps sensori accelerometro prossimità giroscopio bussola barometro impronta digitale gesture mic di riduzione rumore music player videoplayer radio fm non ce l'ha la tv nemmeno qui dici il browser flash player non ce l'ha vibrazione viva voce suoneria insomma tutte queste cose qua insomma ecco batteria di tipo e litio e ampere 3500 e basta così e comunque veramente c'è un ottimo telefono mi piace veramente tanto è una bomba c'è mi piace veramente tanto come telefono qui vabbè c'è il segnetto aspettate che poi vabbè tanto uguale e poi vedete ho messo quello lì che si muove praticamente la foto però non si percepisce tanto da in videocamera fotocamera che adesso usando il cellulare quello vecchio qui con un tocco vedete cosa che andate su ve apre il menu anche di sotto qui c'è sta comparerà poi le notifiche questa vabbè la luminosità chi la metto qua scusate che c'ho mio figlio c'è questa qui la galleria c'è veramente fatto certe foto che sono una bomba comunque mi piace veramente tanto c'è questa come figlio c'è ma no ma se vede proprio bene c'è scusate poi comunque potete anche in te video oppure in te giochi lo vedete proprio così a schermo tutto intero c'è bellissimo proprio mi piace veramente tanto mi piace veramente tanto come fa le foto come fai video poi c'è che bixby scusate c'è una tosse tremenda prova a chiamare che qui c'è quello lì di bixby no che veda tutte le formazioni e aggiornamenti le cose che avete fatto anche voi c'è trecetera il meteo il wallpaper eccetera eccetera allora dai prova a chiamare bixby però adesso c'è soltanto in versione inglese in italiano dovrebbe venire la versione bixby mi pare a fine dell'anno da come ho capito hi bixby open the gallery visto mamma aperto la galleria praticamente c'è una figata veramente bellissimo proprio vabbè dopo altre cose vorrei farò vedere comunque insomma le applicazioni vabbè quello che ho scaricato vabbè poi ve lo fa vedere una cosa tipo apre facebook faccio tipo così mi pare che era questo da non mi ricordo esatto vedete io l'ho messo un coso piccolo no no come se fa a ridotte con ok aspetta altre app ecco così per esempio vuoi aprire queste facebook voglio aprire che ne so to messenger ecco vedete c'è l'ho ridotto c'è una figata ci avete duplicazioni praticamente insieme e poi insomma c'è tante altre cose che devo imparare a fare adesso perché mi piace fa ste robe qua devi imparare a fare come si usa questo come si usa quell'altro eccetera eccetera insomma e niente questo qui è il samsung galaxy s8 plus sa qui vedete la fotocamera che non è più rilievo leggermente proprio questo aveva quello dei battiti cardiaci con la roba lì questo per i protetti digitali usato quello per farli liride che funziona che è una meraviglia insomma un bellissimo telefono ve lo consiglio se dovete fare un telefono è un po' poi mi piaceva le robe i telefoni grossi a me volendo poto prendere anche il samsung s8 e basta ma mi piaceva il plus anche per averci un plus insomma mi piaceva quindi niente così e niente io spero che comunque il video vi sia piaciuto anche del mio nuovo telefono vi ripeto sotto i commenti non mi fate le critiche cattive diciamo to ecco qua perché comunque non so buona fare un boxing dei telefoni non so cosa dirvi niente vedere ho letto le caratteristiche ecco tramite pc che c'è pc davanti volo lette tramite lì sono io non so buona fa ste robe cioè non è che voglio fa come con l'altri che su esperti sani tutto vedete un po più o meno to la scheda tecnica di questo telefono e via insomma finito qua insomma roba un po accelera ho fatto un po l'unboxing di questo telefono e niente quindi vi prego non massacratemi sotto i commenti perché io ripeto non siccome c'è l'area nuovo mi piaceva fare questo questo unboxing poi domani credo di farvi mettere di farvi il video quello lì delle mie applicazioni con il cellulare quindi whats on my phone un'altra volta lo rifarò però con telefono nuovo perché l'ho già fatto con il huawei e quindi vi prego non commentatevi male sotto il video comunque niente il video finisce qua l'unboxing del samsung s8 plus o più insomma finisce qui io niente spero che il video vi sia piaciuto se è stato così mettete pollice in su se volete sotto al video mi commentate e noi niente c'era presto al prossimo video e vi lascio un bacio e alla prossima ciao